Ciao, sono Sara Cileghin e sono il direttore artistico di MAPU Festival. Cos'è il MAPU Festival? È il primo festival internazionale di teatro di figura dell'Alta Padovana. Si svolgerà il 19, 20 e 21 maggio a Piazzola sul Brenta e riempirà le piazze e le strade del paese di spettacoli e artisti da tutto il mondo. In particolar modo aspettiamo artisti di teatro di figura che con le loro marionette, i loro pupazzi, i loro burattini vi faranno sognare e accenderanno la vostra fantasia. Ma non avremo solo artisti di teatro di figura, avremo anche artisti di strada, bancarelle artigiane di alta qualità e soprattutto tante associazioni locali, scuole e collaboratori di vario genere che riempiranno queste giornate di bellezza e poesia. L'edizione dell'anno scorso ha visto insieme a noi circa 10.000 spettatori, un centinaio di associazioni locali e una cinquantina di artisti. Quest'anno li aspettiamo dal Guatemala, dalla Germania, dall'Inghilterra e li aspettiamo anche dall'Italia. Ma non aspettiamo solo gli artisti, aspettiamo anche voi!